E' un peso di materia. Centro spirituale frattocchie, attraverso flora, a cura di vubi, guida. L'anima quindi fa parte della nostra materia e, come è già detto, ha un peso materiale veramente minimo, ma comunque è un peso di materia. Lo Spirito fa parte del Padre Onnipotente e comunica con Lui. Il cammino dell'anima e dello Spirito sono due momenti e due cammini verso la luce di Dio, paralleli ed influenzati reciprocamente, verso l'ombra o verso la luce. Lo Spirito fa parte del Padre e vive a sé, abbandonando il corpo fisico e l'anima, qualche giorno prima del trapasso, normalmente va in altra dimensione, pur rimanendo a sorvegliare il moribondo. Questo si nota quando il morituro giorni prima migliora, oppure rivede i suoi cari scomparsi intorno a sé. L'anima cammina di pari passo con la carne-materia, che lascia solo dopo il trapasso. L'anima, pur essendo anch'essa materia, sopravvive al corpo fisico dopo la morte e, quando l'entità rinasce di nuovo nella carne, è la stessa anima che ridiscende. La guida dell'entità che si reincarna, Angelo Custode, segue lo Spirito che discende nella materia. Tale guida che il Padre mette a fianco dell'incarnato può variare, in quanto questa è sempre adeguata e all'altezza del sentire e dell'evoluzione dell'entità incarnata. Tale guida sarà perciò sempre adeguata al nuovo percorso di vita che l'anima dovrà compiere nella nuova incarnazione e per tutto il tempo della propria vita incarnativa sulla Terra. Quindi la guida può cambiare anche durante il tragitto della vita dell'incarnato sulla Terra. L'anima-spirito, nella ridiscesa incarnativa per affrontare le nuove esperienze, è migliorata, avendo memorizzato tutte quelle effettuate nelle vite precedenti ed è migliorato il modo di pensare. Ha bisogno, però, sempre di una guida appropriata per affrontare le esperienze che verranno in attuazione nella nuova esistenza. Anche l'anima morirà e diventerà parte spirituale purificata, ma tutto ciò con il tempo necessario. L'anima non è altro che un involucro composto di sostanza materiale più leggera di quella terrestre e avvolge e rispecchia tutte le nostre vite precedenti, sia nel ristagno del buio e sia nell'evoluzione verso la luce, tutte inserite nel pensiero vivente dell'uomo incarnato.